La salma del calciatore del Livorno ha lasciato l'obitorio dell'ospedale di Pescara per raggiungere Livorno. In questo momento è in viaggio, intorno alle 14 dovrebbe arrivare a Livorno. Giovedì mattina ci saranno i funerali a Bergamo intorno alle 11. Una volta arrivato a Livorno il carro funebre dovrebbe fare un giro dello stadio con i tifosi, con i compagni di squadra di Morosini. Tra le iniziative che sono state raccolte e diventate ufficiali in queste ultime ore ricordiamo che è stata intitolata una curva dello stadio di Bergamo. Si chiamerà Curva Morosini, la Curva Sud. La notizia è praticamente ufficiale e ve la stiamo dando come tale già in queste ore. Per quanto riguarda invece le cause della morte di Morosini sappiamo Federica che ieri c'è stata un'autopsia lunga, addirittura a 6 ore. Ma ancora non conosciamo con esattezza la causa della morte, tanto che verranno fatti altri esami in laboratorio, esami microscopici per capire bene che cosa è successo. Per capirci ancora 60 giorni ci vorranno per avere una risposta da questo punto di vista. Poco più di 500 chilometri tra Pescara e Livorno.